City Report Cari amici di City Report, con Fran Diamond, Paolo Rusconi alla camera dove siamo tornati in un posto custodito che si chiama Casva cioè il mercato comunale del QT8 fidatevi di noi, di custodito e di sicuro qui non c'è proprio niente Frank No, la cosa assurda qua è che la pezza è peggiore del buco ovvero gli hanno costruito un fortino Basta, basta, non spoilerare troppo Seguiteci sabato alle ore 19, City Report, la puntata integrale Andiamo?